ciao questo è un nuovo video il solito che faccio sui film che riesco a guardare anche se magari questo film che volevo portare in video può avere qualche anno ma visto che era uno di quelli che mi era piaciuto lo volevo dedicargli un video e portarlo magari sul mio canale che li volevo dedicare questo video ha proprio america anche essere che come film mi ha tipo piaciuto che il solito film americano di sulla maria sulla mafia anche se magari può prendere magari il genere è un po giallo thriller che è un bel che come film è anche bello lungo che dura quelle tre quasi tre ore di film però ho visto che come anche se 2 3 o 2 o e 56 ma lei di film ma essendo mai anche fatto bene anche mare le le mare le scene come si svolgono è fatto bene ma lei come ma ecco come film e poi è tutto linea e come mare come film e che magari non ci sono ma lei parti ma lei dove ti poi marei annoiare o marei bucchi e marei di specie bucchi di marei di trame così però e ci sono marei anche attori anche conosciuti tipo russell crew anche denzel washington però come film marei il solito film marei magari è molto molto bravo come anche come regista è molto bravo che a parte che magari come film e magari essendo magari il solito magari americano lì in america marei uscito alla fine del 2007 e oa che magari è arrivato magari qua in italia passano sempre quei tre quattro mesi che qua in italia è arrivato all'inizio a gennaio del 2008 qua in italia nelle sale marei dei cinema però gli voglio tipo di di creare questo video che ogni tanto ho visto che se qualcuno vorrei a qualche magari a qualche marei abbonamento su qualche piattaforma lo si può magari guardare e magari anche gratis che ogni tanto marei lo passano che te lo mettono lì grazie a abbonamento magari anche gratis per farlo guardare però a me essendo magari il solito film americano che parlava magari di gay star e così magari a me magari in particolare magari a me mi ha tipo è piaciuto che parla più che altro magari che come trama che sono sempre a New York negli anni 70 che è la storia che la storia vera di questo frank lucas uno spaziatore che in seguito alla morte proprio del suo capo riesce a proprio a diventare il più narcotrafficante d'america che nello stesso momento marei questo poliziotto che si chiama ricci robert gli da tipo e e e e e e magari nello stesso momento cerca magari di catturarlo però poco come film sui guest e magari così è solito marei americano che da parte mia marei può anche meritare che hai fatto anche bene perché hanno come regista hanno messo anche questo e ridi di scorte come regista e che come film e magari è fatto da parte magari mia è fatto anche bene come film e che anche nella mare nella parte che delle recensioni che la parte delle recensioni ho visto che molti l'anno ebbene marei ha valutato che ha molta gente come me mareglie ha mareglie ha perciuto come film che marei come trama marei ho visto marei anche se marei è ambientato marei a new york negli anni 70 ne compenso sia marei come marei come film così come girato era venuto anche è venuto anche bene che sono tre essendo mai anche tre ore di film però sono tutti lineari e niente che marei come al solito marei metto sempre il video trailer sotto in descrizione marei anche il cast di tutti marei gli attori che hanno partecipato marei a questo marei a questo film che gli voglio marei dedicare questo video visto che marei a me marei è piaciuto e ho visto marei anche dalle recensioni che ha molta gente marei a chi marei può piacere questi film marei di mafia di gaster marei sicuramente uno di quelli che da andare sicuramente da recuperare marei a guardarlo dopo essendo marei anche un film marei di scorte di questo ride di scorte marei ne vale sicuramente marei sicuramente marei la pena che con il ride di scorte va sicuramente marei sul sicuro con i film e niente marei che marei che marei anche marei come si dice marei ci sono ci possono magari anche essere scene marei di dei soliti magari marei essendo marei di mafia di gaster marei di processi marei marei in tribunale così e di marei anche delle ma di qualche marei ex moglie così però essendo marei il solito marei di gaster marei marei di marei di marei di marei di marei come altri marei come anche quei bravi ragazzi così anche se non è sempre di scorte però e sicuramente marei è uno di quei film marei da da andarsi magari a vedere che va a colpo sicuro con ridere di scorte e niente quello che marei poterò dire su questo film marei l'ho già detta massimo ci vediamo sicuramente marei più avanti con i miei soliti video che porto marei sul mio canale e niente per adesso marei e vi saluto e vi saluto ciao ciao